Allora, sesta puntata del corso di Blender, seconda puntata di texturing e unwrapping o scuciture come dicono alcuni tutorial. Settimana scorsa abbiamo visto come fare un unwrap naif del cubo e questa sera facciamo un unwrap con i sim, con i tagli di un cilindro e poi eventualmente torniamo anche sul cubo se ce la facciamo. Quindi, primissima cosa, cancelliamo il cubo, quindi selezioniamo, cancelliamo il cubo e poi facciamo Shift A e aggiungiamo un cilindro. Il cilindro magari lo facciamo 16 vertici così se poi dovessimo portarlo in Second Life occupa meno spazio e poi ci avviciniamo un secondo andiamo in Edit Mode e proviamo a usare la tecnica del CTRL R, quindi CTRL R, per aggiungere degli edge loop di sostegno. Quindi a questo punto premo il tasto sinistro per confermarlo e poi tasto destro perché ci va bene un po' come sono. Facciamo ancora SZ per spostare questi anelli verso l'estremità. Quindi questo qui è il nostro cilindro su cui vogliamo operare. Allora, abbiamo visto la volta scorsa che occorre avere, quindi qui cominciamo a cancellare la parte destra. Occorre avere una finestra di UV, di scucitura, che è questa, quindi la facciamo come abbiamo imparato la volta scorsa. Andiamo in UV Image Editor ed ecco che abbiamo la nostra carta regalo su cui faremo la scucitura. Ora, il problema qua è che se noi selezioniamo tutte le facce, facciamo un unwrap, ci viene fuori una cosa tutta un po' sbagliata, diciamo, vengono tutti sovrapposti. Quindi le due, diciamo, il capo, cioè il cerchio in testa e in coda vengono sovrapposti qua e tutte le facce vengono sovrapposte, il che non è bello, non è quello che ci aspetteremmo. Anche altri tipi, anche il follow, magari, potrebbe venire niente, non ce la fa. A meno, magari, potrebbe anche darsi che... Vabbè, però, insomma, il concetto fondamentale è che la scucitura giusta viene fatta con i tagli. Quindi noi andiamo a selezionare dei vertici, degli edge loop, quindi facciamo Alt, tasto destro, e vedete che selezioniamo la cima, il cerchio che sta in cima. E questo cerchio lo tagliamo, quindi tagliamo tutti questi spigoli e per farlo andiamo qui dove dice UV e diciamo Mark Sim, quindi marchiamo il taglio. A questo punto, se facciamo A, vedete che quei spigoli sono rimasti di color rosso. Stessa cosa lo facciamo sulla parte di sotto, un 5, così lo vediamo, e facciamo il taglio anche qua. E qui facciamo, marchiamo anche qua, A, e così abbiamo ottenuto fondamentalmente il... cioè di separare, diciamo, i due anelli in cima, in fondo. Ma dobbiamo, per fare la cosa giusta, dobbiamo almeno tagliare almeno in un punto. Quindi vediamo dall'alto e tagliamolo da questa estremità qua. E per farlo cosa facciamo? Facciamo Alt, tasto destro, vedete, tagliamo lungo qua, marchiamo anche questo sim e questo è uno dei possibili tagli con cui si può tagliare. Osservate che se taglio quello cosa otterrò? Otterrò fondamentalmente le due lamine di sopra e quella di sotto e poi un'unica, questa qui si adagirà e diventerà una sorta di, diciamo, binario. Quindi come faccio? Faccio AA per selezionare tutto, facciamo l'unwrap, prima opzione. La prima opzione è quella che unwrap seguendo i tagli e vedete che, in pratica, ha fatto quello che ci siamo proposti. Quindi ha fatto la cima, il fondo e poi ha fatto tutto, tutto, diciamo, il lato del nostro cilindro. Ora, questo va anche bene, a volte si usa questo genere di tagli, però io ve ne propongo uno leggermente diverso per cui tagliamo anche lungo la parte opposta. Questo perché? Perché questo tipo di tagli praticamente ci dà la possibilità di selezionare cosa si vede sul fronte e sul retro del nostro cilindro, cosa che a volte può essere, diciamo, più facile. Quindi, in pratica, se noi a questo punto facciamo l'unwrap con la U, vedete che abbiamo la cima, il fondo e poi abbiamo le due estremità. Infatti, se noi andiamo su la parte destra e selezioniamo con L, allora qui, aspetta, facciamo... Ah, ah. Allora, qui per vedere esattamente a cosa corrispondono le varie cose, vedete che non si vede, a meno che non si abiliti qui un'opzione che credo che sia la sincronizzazione... Non mi ricordo quale è di queste... Una di queste opzioni permette di sincronizzare... Potrebbe essere questa... Ah, non la trovo. Comunque c'è un modo per vedere esattamente quali sono le facce che sono selezionate. Ma comunque non è importante, poi la vediamo magari con calma. Comunque questa qui è l'unwrap che abbiamo visto. Allora, ripiloghiamo la cosa che abbiamo fatto la volta scorsa, avete visto che abbiamo la possibilità di controllare qui, view, possiamo andare in paint, in paint mode, e possiamo dipingere. Però dobbiamo avere un'immagine, quindi ci creiamo un'immagine nuova e l'immagine la chiamiamo UV image, ad esempio. 1024x1024 è quella più alta risoluzione per Second Life. Togliamo l'alpha e vedete la facciamo nera. Ok, quindi abbiamo un'immagine nera. Ora, se qui, mentre siamo in paint, scriviamo qualcosa, questo è qualcosa, questo qui esempio è una A, questo qui è una B, abbiamo visto la volta scorsa che lavorando, e poi qui possiamo fare, ad esempio, una cosa di questo tipo, da in fronte, e poi possiamo fare, per esempio, vabbè, un ghirigoro, dall'altro lato, ok? Allora, non si vede niente, quindi il primo trucco che vi insegno è come facciamo a vedere questa cosa? Beh, intanto, se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo visto che bisogna andare sui materiali, e qui c'eravamo visti un materiale che però in questo caso non c'è, quindi occorre crearlo. Allora, dentro il cubo originale c'era il materiale, creando degli altri oggetti, magari non esiste, e nessuna paura, basta premere New, e abbiamo il materiale. E abbiamo visto la volta scorsa che andando giù, e cliccando su Face Texture, si ottiene la texturizzazione automatica dell'oggetto, che però abbiamo visto che non si vede. Abbiamo fatto tutto un giro di texturizzazione di luci per vederlo, ma c'è un sistema leggermente più comodo, che permette di andare sulla costola destra, selezioniamo qua, c'è a un certo punto un'opzione, qui sotto Shading, Multitexture, quindi un pochino dunque si vede quasi, dalla finestra principale, e basta dire Texture Ed Solid, e vedete che abbiamo effettivamente la visione di ciò che stiamo texturizzando, senza dover inventarci le luci, che abbiamo visto la volta scorsa, che poteva essere un problema. Ora, un altro modo per capire se stiamo facendo le cose giuste, è scattare una foto, scattare la foto si può fare con F12, quindi premo F12, sarebbe anche da qua, Render, Render Image, F12, e lo scatto della foto, vedete che ci fa vedere che effettivamente l'oggetto è texturizzato, qui in questo caso le luci sono importanti, perché vedete che qui si perde un po'. Allora, facciamo Esc, vedete che se io tolgo il Face Texture e torno a fare l'F12, il cubo non è più texturizzato, quindi il Face Texture è importante, per mappare una texture con la UV Map relativa. In realtà c'è un altro sistema, che oltre a fare il Face Texturing, che è proprio la possibilità di specificare la texture, quindi bisogna andare sull'opzione subito a destra del materiale, e lì vedete che non ci sono texture, e ne mettiamo una. E questa texture che mettiamo, ci accertiamo che sia di tipo Image or Movie. Il default è, mi sembra Clouds, che non è quello che ci interessa. Quindi mettiamo Image or Movie, quindi mettiamo un'immagine, dopodiché qua sotto specificiamo l'immagine tra quelle che abbiamo creato, quindi UV Image, questa, e poi dobbiamo accertarci che nel Mapping sotto ci sia UV, e qua infine mettiamo la UV Map. Avendo fatto come abbiamo fatto noi, cioè con un'unica UV Map, c'è un solo entry qua, c'è una sola riga, UV Map. Ok, in questo modo noi abbiamo fatto una cosa analoga prima, infatti per vedere che è giusto, basta fare F12, e vedete che risulta texturizzato. Perché si insegna questo secondo sistema? Perché questo consente, si consentirà poi, di fare l'UV Map, molto più complicate, che hanno magari più texture, che con più UV Map, insomma delle cose sofisticatissime. Comunque, insegnandovi l'ABC della texturizzazione, devo per forza farvi vedere almeno un inizio di questo sistema. Ok? Quindi occorre che ci sia un materiale. Poi, se volete fare le cose semplici, fate questo, se no, per fare le cose un pochino più complicate, andate sulle texture, introducete la texture, la texture l'associate all'UV Image, e poi sotto mettete UV, e poi associate all'unica UV Map. In questo caso, se ce ne sono di più di una UV Map, eventualmente qui ne compare uno di più. Ma se avete seguito questo tutorial, ne compare uno solo. Ora, cosa abbiamo visto a lezione? Abbiamo visto che, in sintesi, questa immagine, abbiamo detto che viene salvata, quindi tipicamente cosa si fa? Si fa un save as image, e si mette l'immagine, diciamo, immagine, video, e così si salva l'immagine, no? Oppure si può anche salvare, abbiamo visto, però dobbiamo essere in modalità view, si può salvare effettivamente anche l'UV Map, quindi si va su Image, anzi su UV, e si fa Export UV Layout, e qua si fa Layout Video. Ok? E poi l'idea è quella di andare in GIMP, e con GIMP si può lavorare, quindi l'idea è quella di entrare in GIMP, 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 quando viene caricato, questo qua, allora, avete questo qui, quello vecchio che avevo prima, noi facciamo un Open, apriamo, e cosa apriamo? immagine, video, PNG, no? Questa, vedete che è proprio quella che abbiamo visto, quindi viene aperta questa immagine, questa, eccola qua, questa qui magari la chiudiamo, che era vecchia, Discard changes, e quindi questa è la nostra immagine, e possiamo eventualmente anche caricare come Layer, il, ecco, New Layer, possiamo fare, e si può fare un Add Layer, partendo da, da un'immagine, si può creare un Layer, a Open as Layer, quindi potete ad esempio, aprire un'altra immagine, tipo Layout Video, e questo diventa un Layer aggiunto, vedete che questo è importante, avere due Layer, un Layer, e questo, che se non visualizzo, mi fa vedere l'immagine netta, se io la visualizzo, mi fa vedere dove posso dipingere, quindi l'idea è che, avendo come traccia, lo V-Map, io posso andare qua, e aggiungere delle, delle modifiche, per esempio qui faccio, questo mestiere, ecco, però vedete che quando faccio questa cosa, sulla A, che sarebbe qua, io ho fatto, il, un aspeccio di Ghirigoro, che non vedo, per vederlo, cosa dovrei fare? Dove fare file, salva, anzi, dobbiamo fare, in teoria è abbastanza complicato, perché dovevo fare, dovrei proprio, espruttarlo, export as, PMG, immagine video, quindi facendo l'export, viene rimpiazzata l'immagine, devo fare tutto questo giro, e poi da qua, dovrei dire, da Blender, fare Image, e poi c'è un Reload Image, e vedete che viene ricaricata l'immagine, e quindi, vedo l'effetto, tutto questo giro, solo per vedere l'effetto che fa, è un po' complicato, quindi cosa si fa? Si attiva, una, estensione di Blender, che adesso poi vi faccio vedere, come installare, che una volta che è attivata, in pratica fornisce, un'opzione, sul lato destro qua, compare un'opzione, che si chiama External Paint Auto Refresh, quindi voi la cliccate, questa qui, aggiorna sia l'UV, che il posto, e poi si mette in On, praticamente, questo, questo mestiere, esiste anche un plug-in, che si trova qui, sotto filters, Blender Gimp Auto Refresh, e facciamo On, allora, facendo così, praticamente cosa succede? Che ogni volta che noi, facciamo qualcosa, su questa immagine, quando lasciamo il cursore, automaticamente viene salvato, e noi vediamo esattamente l'effetto, sul qui, e questo diventa interessante, perché se noi vogliamo, ad esempio, modificare, questa parte qua, per esempio, qui potremmo anche dire, che vogliamo, cambiare un po' il colore, e prendere un colore, per esempio, verde, e poi facciamo, magari lo facciamo, insomma, dunque, allora qui, ci posizioniamo, sul nostro, ah, quello era il layer, fatto così, quindi dovremmo lavorare qua, su questo, layer qua, ok, e poi, esempio così, gli ho cambiato color, l'ho fatto diventare tutto bianco, ho fatto il fill di bianco, e vedete che qui, mi ha fatto vedere, la variazione, no? in tempo reale, ma oppure, esiste anche la possibilità opposta, di fare, premendo mode, allora, cosa succede? Che, qui posso fare, invece, il contrario, quindi andare da, paint, e quello che faccio qua, quindi, qui, qui posso, adesso sto scrivendo, in bianco, e quindi, non si vede, ma, se scrivesse, se decidessi di scrivere, in verde, e quindi, vado a scrivere, allora, vedete che, intanto, facciamolo magari, sulla b, qua, vedete che qui, me lo fa vedere, mentre scrivo, ma, la cosa interessante, sempre che funzioni, è che me lo fa vedere, anche, su, 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 oppure, su Photoshop, cioè, queste cose funzionano, anche per Photoshop, quindi, riassumendo, qui, il mode, allora, active, external paint, quindi, viaggia, la sincronizzazione, va dall'esterno, verso l'interno, o, se no, active, blender paint, quindi, voi scegliete, quello che volete, voi vi domanderete, perché, si usa, gimp, a volte, e perché, per chi lo sa usare, gimp, così come Photoshop, hanno delle possibilità, di editing, molto, molto più sofisticate, rispetto, alle capacità di editing, che sono, offerte, da questi pennelli, che abbiamo qua dentro, che sono, tutto sommato, molto semplici, ok, allora, adesso, l'unica cosa che manca, è, farvi vedere meglio, insomma, come installare questo plugin, allora, per installare questo plugin, la cosa che, ho fatto, è stato quella, di cercare, eh, external, paint, autorefresh, blender, insomma, mettete, o se no mettete, autorefresh blender, quindi, per esempio, eh, autorefresh, blender, extension, o add-on, 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 e vedete, che vi dovrebbe arrivare, abbastanza, eh, facilmente, se non qua, insomma, questo, che è il sito, in cui eravamo prima, dopodiché, qui scaricate, il programma, lo scarico, in questo programmino, eh, quando si scarica, vedrete, che dentro, c'ha, eh, ecco, c'ha, un punto zip, che dovete aprire, quindi, fate, e di solito, uso, sette zip, che apre, l'archivio, e dentro l'archivio, c'è una cartella, questa la tirate fuori, e dentro a questa cartella, c'è una parte, valida per blender, e una parte, valida per gimp, e poi ci sono, delle parti, evidentemente, che servono, per photoshop, ora, la parte per blender, se la selezionate, c'è questo blender, expaint, autorefresh.py, e per installare in blender, il sistema, è abbastanza semplice, io qui l'avevo già fatto, ma voi, dovete fare, user preferences, addons, install from files, e quindi andate, in, a cercarvi, questo, vediamo un po', se lo troviamo, blender, autorefresh, eccolo qua, che, dove l'avete scaricato, no, quindi vedete che sotto, mi salvo, il punto in cui è, quindi, glielo selezionate, poi invio, lì ve lo trova, install from file, e lui, praticamente, ve lo fa vedere, e autorefresh, accertatevi soltanto, che ci sia il baffetto, in questo modo, compare, nella finestra delle UV, questa parte, che vi ho fatto vedere adesso, se invece, non, se invece, volete installarlo, Gimp, occorre andare, a vedere, dove, dove Gimp, ha il, il suo direttore, di plugin, e i plugins, di Gimp, sono tipicamente, Gimp, dunque, facciamo, autorefresh, Gimp, F, plugins, ok, vedete che tipicamente, sono dentro, C, program files, C program, Gimp 2, lib, Gimp 2, 0, e quindi, questi plugin, che abbiamo visto qua, che sono, per la cronaca, questi, Gimp, autorefresh, dovete prenderli tutti, e spostarli, su questa finestra, poi, una cosa che abbiamo notato, che quando li spostate, cercate di non poggiarli lì, ma poggiateli, praticamente, o sulla seconda colonna, o ancora meglio, fuori, tipo qua, quindi, perché se voi li mettete qua, vi compare un errore, se invece li spostate qua, ah no, vedi che, a lezione qualcuno ha detto, che bastava spostarlo, sulla seconda colonna, in realtà, bisogna, prendere tutto, e spostarlo, tipicamente, ad esempio qua, in cima, a questo punto, lui, fa la sostituzione, dopodiché, bisogna spegnere, accendere il Gimp, e se tutto è andato bene, quello che, troverete, quando avete un'immagine caricata, sotto filters, le corrispondenti opzioni, Blender Gimp, Auto Refresh, che sono quelle, che ho fatto vedere prima, allora, più o meno questo, credo che sia, più o meno tutto quello, che vi ho fatto vedere, la lezione, seconda lezione di texturing, quindi, ci vediamo, poi la prossima settimana, per andare un po' avanti, con qualche altra, qualche altro trucco, di texturing, quindi, buonasera da tutto, tutti, arrivederci,